Bella a tutti frianze e benvenuti in un nuovo video Come vedete sono già in game, infatti mi trovo a picco volare E sono passato di qua per rendere omaggio alla spada Perché come sapete è stata rimossa, anche se credo che verrà rinserita in game Sotto forma di una nuova modalità Come era per il guanto di Thanos, infatti c'era una modalità a tempo limitato Per giocare al guanto di Thanos Credo che Fortnite abbia sperimentato questa spada nelle modalità classiche singolo, duo e squadre Per poi metterla, visto che a molti non è piaciuta Anche se a me personalmente piaceva molto giocarla insieme a tutti quanti Anche se chi lo utilizzava era OP Però magari ti potevi schierare con gli altri player e uccidere chi aveva la spada Quindi era interessante, secondo me, averla in queste modalità Comunque penso che l'andrà a rintrodurre in una modalità dedicata Sono qui non solo per omaggiare la spada e per dirvi delle informazioni sulla spada Ma per ritornare in questo punto Infatti ci sono novità importantissime Chi mi segue sa che ho parlato in un video di queste tre pietre, queste tre sculture in ghiaccio Infatti non sono messe qui a caso Che rappresentano il corvo, la skin del cavaliere rosso e il ranger dell'amore Infatti nel video dove parlavo di queste tre skin vi avevo detto che molto probabilmente Fortnite stava lavorando a delle skin congelate Infatti queste tre skin molto presto le troveremo in game Di questa skin corvo e del cavaliere rosso ancora non ci sono file di gioco trovati Ma per quanto riguarda il ranger dell'amore ho trovato notizie veramente incredibili E presto vi farò vedere in anteprima esclusiva la skin del ranger dell'amore Come sarà in gioco Quindi quella che noi troveremo nel negozio oggetti Purtroppo vi do questa notizia Perché molti di voi mi chiedevano se era uno stile sbloccabile O comunque potevamo personalizzare il nostro ranger dell'amore Chi l'aveva acquistato ovviamente Purtroppo no è tutta una nuova skin Quindi dovremo andarla a comprare nel negozio oggetti se ovviamente ci piace Vi invito fin da ora a condividere questo video Almeno anche i vostri amici vedono in esclusiva questa nuova skin Infatti ci spostiamo al pc Ed ecco a voi come sarà il ranger dell'amore in versione invernale Eccola qui regà Un'esclusiva assurda Sono andato su un sito che me la mostra in 3D Proprio come sarà E guardate bene È molto È similare al ranger dell'amore E conosciamo tutti quanti Era in versione pietra Questa volta invece viene aggiunto il dettaglio in nero Un nero opaco A piedi e spalle sembrano ghiacciate Non come la skin del battuta di caccia Che ha mani e piedi congelate E si presenta in questa versione scura Con delle decorazioni celeste che vanno a riprendere i pantaloni A me non mi fa impazzire questa skin se devo essere sincero L'avrei preferita totalmente nera Magari con queste decorazioni celeste che andavano a prendere parti del viso Comunque questa sarà la skin ufficiale che troveremo nel negozio oggetti E vi ricordo purtroppo si la dovremmo acquistare Per il momento non sappiamo ancora quando uscirà in gioco E appena usciranno le altre due skin Cioè questa qui del cavaliere rosso e la skin Raven Io sono molto curioso di vedere come sarà la skin Raven Perché tra tutte è quella che mi piace più Cioè ovviamente la skin del corvo Vediamo che cosa si sono inventati i designer dell'Epic Games Comunque appena uscirà qualche informazione Qualche file di gioco trafugato a quelli dell'Epic Games Ve lo mostrerò Anzi non vi mostrerò i file di gioco perché probabilmente mi bloccherebbero l'account Però ve ne parlerò e se ci sono foto interessanti che vi posso mostrare Ve le porterò qui sul canale Perciò mi raccomando iscrivetevi Attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video Lasciate un bel like per questa nuova skin incredibile e assoluta Che vi ho mostrato giorni e giorni prima dell'uscita del negozio oggetti Condividete mi raccomando questo video con i vostri amici Ci tengo perché almeno anche loro scoprono questa incredibile novità Noi ci vediamo in un nuovo video E le belle mesami Noi ci vediamo in un video